Con piacere siamo lieti di comunicarvi che è stato pubblicato il bando Estate IMSI Insieme 2017. Il bando permette ai figli dei dipendenti pubblici di soffrire di contributi che coprono i costi di un soggiorno linguistico. Noi ti forniremo un patrocino gratuito e studieremo insieme la destinazione ideale per una vacanza studio all'estero per i tuoi figli. La domanda andrà presentata entro il 16 marzo. Regala ai tuoi figli una vacanza studio a Londra o magari a Edimburgo o chissà magari a Madrid. Contattaci! Grazie!